Hanno raggerato per almeno 5 anni centinaia di persone tra la Sardegna, la penisola e persino il Brasile, a cui promettevano il raggiungimento della felicità attraverso la meditazione, l'uso di sostanze psicoattive e altre terapie consigliate. Tra le vittime anche personaggi del mondo dello spettacolo, così 8 persone che costituivano una psicosetta chiamata Onde Delta, sono state denunciate per associazione per delinquere, finalizzata all'esercizio abusivo della professione di medico, psicologo e psicoterapeuta. A finire sotto la lente di ingrandimento dell'indagine iniziata nel gennaio 2013, sono state Lucia Dettori, architetto di Orgosolo di 47 anni, considerata la santona della setta, il suo compagno Luigi Franceschini, 42 anni, di Pesaro, e le due sorelle dell'architetto, Pasqualina e Michela Dettori, rispettivamente di 57 e 60 anni. Inoltre collaboravano con loro Cristian Cesaroni, 36 anni, di Pesaro, Marta Pasqualin, 34 anni, di Treviso, Stefania Seddone, 42 anni, di Nuoro e Angela Golosio, 35 anni, di Sassari. La setta si proponeva di migliorare la vita delle persone, riattivando l'uso di particolari onde del cervello. Inoltre operavano anche attraverso l'uso di sostanze pericolose, come allucinogeni e farmaci, per curare malattie gravi. A subire raggiro anche casalinghe, dipendenti pubblici e commercianti. Nessuna delle vittime ha finora presentato denuncia. Ci sono però delle lettere anonime e testimonianze. Il giro d'affari accertato finora è di oltre 400 mila euro, ma le indagini di accertamento patrimoniale stanno proseguendo, sotto sequestro dalla notte scorsa il sito internet della Santona.